Abbiamo fatto una valutazione intanto sull'esperienza di domenica scorsa, perché poi le scelte vanno fatte anche con elementi oggettivi e non con le narrazioni e con le suggestioni. Intanto partiamo da un principio, come se fossimo a casa nostra, abbiamo i nostri figli, ci sono elementi inquinanti, noi ci preoccupiamo di ridurli. Questo è il comportamento che deve avere un sindaco, un amministratore serio, senza ipocrisie, senza fare atti che sono irrealizzabili e allora siamo partiti analizzando i risultati della domenica scorsa ed è oggettivo che l'inquinamento veicolare non risolve il problema, ma è un elemento che inquina e quindi è una di quelle parti che vanno ridotte, perché abbiamo visto che siamo scesi anche rispetto alle città vicine in quella giornata con le stesse condizioni, quindi ci dimostra che l'inquinamento veicolare è una parte importante e su quella continueremo a lavorare. Poi ci serve fare anche un secondo esperimento perché dobbiamo verificare anche con condizioni diverse, quindi ritoccando a quella che è la viabilità, perché effettivamente alcune scelte hanno creato ulteriori disagi invece di migliorarle, quindi la viabilità migliore è quella del carnevale che rende più snello e quindi perché se si fanno intoppi andiamo a migliorare da una parte e a peggiorare dall'altra perché poi la centralina raccoglie l'inquinamento non solo di quella parte, quindi faremo un ulteriore passaggio domenica 26 con accorgimenti che andranno a rendere più fluido il traffico. Secondo elemento, faremo delle sperimentazioni del lavaggio delle strade durante la settimana e vediamo qual è il risultato perché qui nessuno ha le certezze e quindi se funzionano sono dei provvedimenti che possiamo usare anche in seguito. Lo faremo durante la settimana perché anche il traffico, fine settimana e durante la settimana, è diverso. Quindi lo sperimenteremo due giovani e vedremo qual è il risultato. Poi non farò un'ordinanza dove dirò ai cittadini di ridurre di un grado o due gradi perché non abbiamo gli strumenti per verificarla, sarebbe una presa in giro. Mentre dico cuore aperto a tutti i cittadini, siamo tutti partecipi, proviamo ad abbassare ognuno di noi nella propria abitazione, nella propria azienda, almeno di un grado la temperatura. Questo aiuta. Noi lo faremo negli edifici pubblici, ridurremo di due gradi la temperatura e quindi daremo noi per primi il buon esempio. E poi questa cosa guardiamola sotto un aspetto bello e positivo. Allora un messaggio, domenica prossima invadiamo a piedi coi pattini il centro storico e viviamolo come avviene nei momenti belli, quando c'è la città da giocare, quando c'è il carnevale. È anche un modo nuovo per vivere la città, anzi diciamo a tutte quelle persone che non sono di Fano venite che ci sarà una città ancora più accogliente. Grazie a tutti.